L'Achila potremmo definire la cena della preparazione ad un appuntamento ben più importante? Sì, a un anno dalle elezioni, si voterà il 6 giugno del 2024, abbiamo deciso di convocare il popolo di Libera Castiglioni. È una cena popolare e anche una ricorrenza oggi, perché giusto 4 anni fa vincemmo le elezioni proprio il 26 di maggio del 2019. Quindi ecco, è una ricorrenza felice che spero sia ben augurante, quindi ecco, ci sono tutti gli auspici. Senta, Lachi, però c'è un dato oggettivo, tra un anno dovrete presentare un nuovo candidato sindaco? Sì, questo è un fatto certo, sicuramente lo presenteremo, ma su questo fatto non ci sono assolutamente temi che possono... cioè non siamo preoccupati di questo, io non ho visto ansie particolari. Andremo nel solco della continuità amministrativa? Io credo che il frutto non cada mai tanto lontano dall'albero, quindi ecco, questa è la nostra strada che percorreremo. Se ne dico primarie? No, no, le primarie non le faremo. Stiamo facendo questi incontri con la popolazione, queste riunioni di popolo e queste le facciamo anche perché troviamo dei validi suggerimenti, quindi le primarie non sono all'ordine del giorno. Sicuramente però faremo sintesi a brevissimo.